Un saluto cari amiche e cari amici, mi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. La palla di pelle, rassegna stampa di oggi, martedì, 11 giugno. Partiamo dal Corriere dello Sport e partiamo coi botti, ma poi vedremo che sono botti, forse smorzati. Il Corriere dello Sport titola Forte, Rabiot tenta il Milan, la Juve si tira indietro, il francese è in scadenza e cardinale si informa. Primo sondaggio, il nodo è lo stipendio e chiaramente all'interno della seconda pagina il centrocampista francese, eccola qua, è quasi arrivato al termine del contratto di un anno che aveva con la Juve. La società rossonera potrebbe arrivare fino a 7,5 milioni con i bonus. Questa è una notizia che mi aveva incuriosito, mi aveva affascinato, l'avrei preso subito, io Rabiot è un giocatore delle grandi opportunità del mercato. Poi però, anche in questo senso, anche il tutto sport è su questa linea, ma attenzione a quello che scrive, io sapete che seguo sempre volentieri Monica Colombo sul Corriere della Sera, vado dunque e lei nell'articolo riguardante il mercato, eccolo qua, eccolo qua, Zirze Milan ora si può fare, ma vi leggo quello che scrive Monica Colombo e Mirko Graziano sul Corriere della Sera. Prende forma il nuovo corso del Milan, il giorno cerchiato in rosso è giovedì, quando verrà ufficializzato Paolo Fonseca come allenatore del Diavolo. Contratto di due anni con opzione per il terzo ingaggio da 3,5 milioni a stagione. Qui sull'ingaggio Monica Colombo e Mirko Graziano scrivono 3,5, avevo letto 2,5 più bonus tre, quindi si oscilla su quella cifra, però il Corriere della Sera mette una cifra differente da quella che avevo letto fino adesso. Capitolo attaccante, si sta assottigliando la forbice con gli agenti di Zirze e il centramante olandese a un passo dal vestire una maglia rossonera ed è una linea comune. Il Milan pagherà la clausola da 40 milioni e ha già ottenuto il totale gradimento dell'attaccante che ha però estimatori in premie. Con il riconoscimento lei, Monica e Mirko Graziano parlano di 4,5 milioni più bonus. Si avvicina un'intesa con Kia Europe Chan. Anche qui c'è un intreccio misterioso. Qualcuno ha scritto che in questione di ore Kia stia per arrivare a Milano, ma questa mattina Matteo Moretto dice no, non si muove da Londra. Anche lì da capire quale sia la situazione. Del resto poi vediamo, eccola qua. Entro giovedì, e parla anche della Juventus, firmerà in via telematica Tiego Motta con la Juventus. L'allenatore ora in vacanza ha contatti quotidiani con Cristiano Giuntoli, che ha fretta di ottenere una risposta da Rabiot. Gli ha già sottoposto un triennale alle stesse cifre attuali. Il Milan, Monica Colombo sul Corriere, nonostante i rumors, nega di aver effettuato un sondaggio sul centrocampista. Quindi il Milan nega di avere sondato il giocatore Rabiot. Vedremo i prossimi giorni, le prossime ore, come si evolverà la situazione. Andiamo a tutto sport. Sara perché ti amiamo. E ieri me la son guardato, ho fatto un bel tifo. L'atletica leggera è uno sport che io, a livello televisivo, pratico solo nei grandi avvenimenti, alle Olimpiadi e magari gli europei o i mondiali. Ieri mi sono gustato Sara Fantini, che con un lancio al martello di 74 metri ha vinto la medaglia. E quindi la 74-18, ottava medaglia. E mi sono accalorato. Ero lì che, tra virgolette, gufavo il lancio delle altre lanciatrici. Male Tortu, Filippo Tortu, male, male, è arrivato secondo, per lui male. E mi è sembrato, caro Filippo, quando corre il mio presagio nocturne. Ha trovato questo momentale, era arrivato da chissà dove, che l'ha volato via, quando sinceramente, nonostante una corsa che lui definisce un po' imballata. Però dispiace, perché lui era convinto di vincere dopo i tempi delle semifinali. Infatti ha fatto un tempo molto maggiore. Però la tensione l'ha un po' condizionato. È arrivato secondo, aveva la faccia di un arrivato ultimo. E lo capisco. Tre seghe elezioni di Juve, Dybala idea regalo di Marotta in Zaghi. Si torna a parlare di Dybala all'Inter. Toro Vanoli, ci siamo, e spunta pure Itzes. Czesny, vuoi 40 milioni? Ci penso sul Polè. Il Polacco si è preso un paio di giorni per riflettere con la sua famiglia. Intanto Ronaldo lo ha già chiamato. Rilancio shock del Al Nasser per il portiere. Però la Juventus si era portata avanti prendendo, o praticamente prendendo, di Gregorio. Douglas Lewis spinge i Giuntoli e Monci pronti a rivedersi. Chiese Dybala il pericolo di un altro addio gratis. Mili cooperato al menisco. Purtroppo serviranno a 40 giorni. Un giocatore serio. Ha fatto anche dei gol al Milan, però è un giocatore che apprezzo. Vediamo. Vanoli al Torino, ci siamo, e spunta il difensore Itzers. Vediamo. ecco, Juric aveva detto sì all'Aiduk Spalato, poi ha cambiato idea dalla Croazia. Non ha dato spiegazioni incredibili, delusi i tifosi dell'Aiduk. E intanto sorpresa sondaggio per Pobega da parte del Toro. Toro Bologna per Wolff e Granata anche su Zortea. Dybala ci risiamo. Vuole la Champions e se esce Arnautovic? Eccolo qua la possibilità. Avanti Milan sarà Sirse il primo botto per Fonseca. Nel braccio di ferro tra la società e Jorab Chan, sulle commissioni, decisiva la volontà del giocatore che si è promesso ai rossoneri. C'è una linea ottimistica. E qui poi Redbird porta chiusi agli agenti le allergie degli americani alle onerosi commissioni richieste dai giocatori. E dice che per questo motivo il Milan non ha tenuto Donna Rumma, Marco Sturam volevano 8 milioni, non ha accettato. Stessa cosa per Taremi, stessa cosa per Mancini, un giovane che era a Vicenza, saltata l'operazione Kabak sempre per lo stesso motivo. Un altro vulcano a Napoli, è arrivato Conte, sono entusiasta. Parma dopo Valeri ha salto a Gaetano che è un buon giocatore del Napoli, giovane. Fagioli cresce e va in pressing su Giorginho. Pep, benvenuto a Flick nell'inferno blaugrana. E adesso, cari amiche e cari amici, con soddisfazione, qualcuno mi ha preso in giro ma non importa. Quando vi ho detto che io avrei preso una tipologia di allenatore come Urzeler del San Paoli o come Possanzini, mi prendono in giro e mi guardano male. Ebbene, questo Urzeler che vi ho pregato di seguire, per chi mi segue sul mio canale, adesso è andato al Brighton. Mi hanno detto che è bravo, molto bravo e bisogna a volte avere il coraggio di trovare questi allenatori. Non è facile per una società come il Milan che ha bisogno di certezze e ha bisogno di allenatori almeno esperti. Però seguite questo Urzeler che vi avevo detto sarebbe andato in una squadra grande tedesca, oppure in Premier League e al Brighton. Quindi seguite Urzeler. Grosso obiettivi prima la squadra, parliamo di Sassuolo e per i salti magici di Gimbo arriva anche il presidente. Mattarella all'Olimpico per seguire la sfida del nostro portabandiere ai giochi, che giovedì ritirerà il tricolore. Otto volante Fantini, coni a loro col martello. Autocritica torti, tao tortu tanta amarezza. E andiamo adesso, per concludere, alla Gazzetta. L'uomo in più frattesi per la riscossa. Martello d'oro Fantini, la prima pagina, assina e rilancia, o bimblegono i giochi, non mi fermo più. È un pochino più pessimista la Gazzetta, non è negativa, leggermente più realista, diciamo così. Zirze Milan ha ostacoli. Nella valigia di Luciano da Buongiorno a Scamacca, tutte pagine dedicate al nazionale, frattesi al top, poi muro antitalia, Zim City, il giocatore dell'Atalanta, albanese che giocherà contro l'Italia. Poi andiamo, Inter, partita doppia, blitz col Genoa, Guzmonsson più Martínez in un colpo solo. Arnautovic però non mi muovo, io resto, ma il club con lui stappa il mercato scommesso. Berardi, la Juventus ci prova con Berardi, l'esterno dice sì, ora deve trattare col sassuolo, anche se sarà pronto solo a fine anno. Cesni al Nasr rilancia, Zirze all'ultimo ostacolo, l'olandese e il Milan si sono già scelti, ma c'è il nodo agente, abbiamo già sviscerato il problema. Squadra Bri presto il via libera, i rossoneri Under 23, l'Ancone bocciato dalla Covisoc, venerdì probabile, esclusione ufficiale dei marchigiani, non avrebbero pagato o non hanno pagato gli ultimi due mesi o letto di stipendi, quindi questo sarebbe il motivo. Quindi l'Under 23, assolviate, investimento di 12 milioni, interessante. Conte a Napoli, pranzo con Adielli e subito lavoro e adesso ce l'annuncio, quando verrà invece Fonseca? Dicono all'inizio di luglio. Vlasic messaggio al Torino, scatta l'ora di Zanetti. Pozzo va a prendere un tedesco, Runiaic, che ha guidato il leghia Varsavia, quindi l'Udinese è sempre creativa nella scelta e coraggiosa. Pinamonti, Dia, Belotti, Petagna e caccia aperta agli uomini gol. Purtroppo Niang non è stato rinnovato il contratto, quindi deve trovare una squadra. Fiorentina, Palladino su Retechi, costa 30 milioni, piace anche Lucca. Bologna c'è l'idea Casadei, ma resiste Tesman, spunta Volfe della Zeta. GB Olivero dice, attenzione Ibra, sei tu che devi proteggere Fonseca. Non è giusto nemmeno bollarlo come tecnico mediocre senza dargli la possibilità di lavorare in un clima di fiducia e sono totalmente d'accordo con GB. La sensazione è comprovata da alcune buone cose mostrate allo Schacht, alla Roma e all'Ill, è che Fonseca sia più bravo di quanto gli venga riconosciuto. Ma questo ovviamente non basta, il Milan è un esame che non può sbagliare. A Fonseca serviranno l'aiuto e la protezione della società che dovrà mostrarsi più forte rispetto a quanto accaduto nel momento in cui la sollevazione popolare bruciò la candidatura Lope Teghi. Questo l'opinione di GB Olivero sulla Gazzetta. È un caso mondiale il mondiale per club e invece è meraviglioso e voglio chiudere le panchine della serie B. Dionisi, Grosso, nuovi, Maran, Stroppa, Pagliuca, Possanzini, Bisoli, Pirlo ed Angelo confermati. Bisogna vedere Vivarini al Catanzaro, Gorini al Cittadella, Viali al Cosenza, Di Francesco al Frosinone, Valente al Suttirole. Quale sarà il loro futuro? Fantini un lancio nella storia, torto così brucia l'argento amaro e pensare che la Trica le faceva paura. Che cosa ho fatto? Dice Sara Fantini. Questa sera, attenzione, si gioca Olimpia-Virtus, una bella intervista a Gianmarco Pozzecco. Virtus Milano, quanta sofferenza. Melli stile Meneghin, Bellinelli è unico. Questa sera partita da non perdere. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.